E' con noi Pietro Nocera che è responsabile nazionale UIL del coordinamento dei diritti. Se è ancora in sala io gli darei la parola e per noi è un piacere ascoltarlo e entrare anche in una forma di collaborazione. Innanzitutto parto col mio intervento ringraziandovi, ringraziando la UIL COM per la sensibilità e vicinanza mostrata nei confronti dell'iniziativa di Costituzione del coordinamento dei diritti, dei nuovi diritti all'interno della nostra confederazione sindacale. Un ringraziamento particolare anche a Roberta Musu con la quale a Milano abbiamo spesso modo di vederci e di confrontarci per l'attenzione che ha mostrato verso le progettualità che volevamo realizzare. Brevemente spiego ai delegati, alle delegate e anche agli ospiti che cos'è il coordinamento diritti e perché abbiamo pensato di crearlo all'interno della nostra confederazione sindacale. L'idea è sorta a Milano nel 2013 quando in seguito ad una sentenza vinta di primo grado e poi in appello da parte di un lavoratore del settore creditizio che si è visto da parte della sua banca, della cassa mutua della sua banca, negare il diritto all'assistenza integrativa per il proprio compagno, ha fatto causa, l'ha vinto, allora a quel punto noi abbiamo iniziato a pensare prima a livello di settore credito perché chiaramente la causa riguardava il nostro settore e poi l'abbiamo voluta estendere, prima era nata come osservatorio poi abbiamo pensato che tutte le categorie, all'interno di ogni categoria c'erano problematiche di questo genere e allora abbiamo pensato che era opportuno che all'interno della nostra confederazione si pensasse di realizzare all'interno un coordinamento che si occupasse di queste tematiche, dei nuovi diritti come vengono definite. Appunto non solo a livello confederale perché questo è un altro punto che stiamo affrontando in questo periodo, molte categorie all'interno stanno iniziando a progettare la costituzione di questo coordinamento al proprio interno, quindi a livello confederale un ruolo politico, istituzionale, ma poi la contrattazione si fa appunto nelle aziende e quindi nelle categorie ed è importante che anche nelle categorie ci sia una presenza di questo genere. E vi faccio alcuni esempi che hanno portato quindi nelle contrattazioni, in sede di contrattazione a dei risultati e dei successi che per la nostra confederazione sono stati importanti e siamo passati sui mass media per esserci distinti per il ruolo che abbiamo svolto. L'accordo per esempio che abbiamo raggiunto in Banca Intesa San Paolo, che è stato esteso il congedo matrimoniale anche a coppie di fatto, ma non solo, perché abbiamo introdotto anche di estenderlo agli altri riti religiosi che precedentemente non veniva concesso il congedo matrimoniale. Adesso questo è stato possibile e questa è stata una battaglia che come will del settore bancario, la Wilka, ha condotto in maniera esemplare e la stampa ne ha dato ampia risonanza, non solo nazionale ma anche internazionale. Oppure vedo per esempio recentemente proprio in questi giorni anche l'AMAT, l'azienda municipalizzata dei trasporti della città di Palermo, anche lei ha esteso il congedo matrimoniale a coppie di fatto e si aggiungono altre aziende, l'IKEA, Servizi Italia e se veniamo al vostro settore, Call and Call per esempio, è stata anche lei antesignana in questo senso, l'Università di Bologna, di Genova. Invece quello che assistiamo in Italia è quello che è accaduto ieri con la circolare ai prefetti annunciata dal ministro Alfano, cui rivolge un invito formale al ritiro e alla cancellazione delle trascrizioni di nozze gay contratte all'estero, avvertendo che in caso d'inerzia si procederà all'annullamento d'ufficio, insomma d'imperio. Alfano motiva questa sua decisione in conseguenza del fatto che la triscrizione dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso non sono conformi alle leggi italiane, in quanto in Italia non è possibile che ci si sposi tra persone dello stesso sesso. Appunto, in Italia non è ancora possibile riconoscere alle coppie di fatto gli stessi diritti delle coppie sposate, ma è questa l'anomalia, non il contrario. Sindaci in rivolta respingono l'iniziativa di Alfano. Il Comune di Napoli dirà una nota nella quale scrive che l'amministrazione ricorrerà nelle sedi giudiziarie competenti contro l'annunciata circolare, in quanto contraria al principio costituzionale di uguaglianza dei diritti. Dello stesso avviso il primo cittadino di Bologna, Virgilio Merola, il quale preannuncia che disobbedirà. Insomma, mentre dall'altra parte del continente una sentenza storica dell'alta corte americana dichiarò incostituzionale il Defense of Marriage Act, la legge federale che definiva il matrimonio come l'unione esclusiva fra un uomo e una donna, cui si aggiunge il recente respingimento da parte della stessa ai ricorsi presentati da cinque stati, in Italia qualcuno propone l'inverso. E' quel qualcuno che ci considera a noi sindacato i conservatori. Ma che stravaganza! Noi saremmo i conservatori, loro sono i riformisti. Se essere fra coloro i quali lottano per tutelare i diritti e per acquisirne di nuovi all'insegna delle conquiste di civiltà e progresso è sinonimo di conservatorismo? Beh, per me è proprio vero il contrario. Permettetemi con questo una considerazione sulla questione, ho sentito anche prima, delle modifiche all'articolo 18. Ma non userò il mio pensiero personale. Prenderò in prestito qualche dichiarazione dell'ex ministro del lavoro, professoressa Fornero, la stessa al termine di un convegno tenutosi a Bruxelles sul tema dell'occupazione. Ha rilasciato un'intervista appunto al Corriere della Sera esplicitando alcuni concetti emersi durante il convegno stesso, che per noi sindacalisti conservatori, fra virgolette, erano e sono già noti. La prima è che le riforme del mercato del lavoro da sole non creano occupazione, ma devono essere collegate a politiche macroeconomiche. Ma va. La seconda riguarda una delle principali contraddizioni del nostro paese. Da una parte ci lamentiamo, a ragione, del mare oscuro della società moderna, la precarietà. Dall'altra, come risposta, non vengono attuate politiche che consentano lo sviluppo industriale e la ricerca delle migliori competenze, ma al contrario, vengono proposte minori tutele e un mercato del lavoro con una liberalizzazione spregiudicata e deregolamentata, che non è sinonimo di mercato flessibile. Inoltre, e concludo, la stessa Fornero, nella stessa intervista, dice che il diritto al reintegro solo per i licenziamenti discriminatori è poca cosa, in quanto è molto difficile per il lavoratore provare questa fattispecie di casi. Quando lo dicevamo noi, ci davano dei marziani. Questo è un momento difficile per il sindacato. Dobbiamo avere il coraggio di porre in essere una seria riflessione anche al nostro interno. Guai se non lo facessimo. Dobbiamo però altresì ritrovare, conservare, rinnovare i nostri auri principi, non escludendo ma includendo le diversità di pensiero, ampliando e non riducendo gli spazi di dibattito e discussione democratica. Il filosofo Habermas sui diritti ha scritto, non c'è diritto senza diritti, e che occorre una costante mobilitazione sia per farli divenire effettivi che per farli restare tali. Questo deve farci riflettere, come lavoratori, lavoratrici e cittadini in genere, che occorre organizzarsi e non arretrare di un solo millimetro sulle libertà civili e sui diritti fondamentali. E fra questi il diritto al lavoro è l'elemento imprescindibile dell'essere umano come essere sociale. Vi auguro di cuore lo svolgimento di un bellissimo congresso, ricco di contenuti, di idee e progettualità, ma anche un po' diverso, innovativo e soprattutto che si rivolga dritto al cuore delle persone. Buon congresso.